ciao ragazzi bentornati da mattia rock god in questo nuovo video premetto che questa recensione non è stato per niente facile scriverla perché parliamo di una serie che si sviluppa su cinque stagioni e ognuna ha una media di 13 o 14 o 15 episodi per stagione e quindi non è stato facile diciamo spiegare tutto comunque riassumere il tutto in pochi minuti la serie di cui vi sto per parlare si chiama z nation non so se avete mai sentito parlare di questa serie ebbene se ne avete sentito parlare allora ok se invece non avete mai sentito parlare eccomi qui pronto per recensirvela è una serie americana a tema zombie prodotta tra il 2014 e il 2018 e la asylum si è occupata appunto di produrre questa serie ed è il loro primo progetto televisivo poi hanno fatto anche black summer che sarebbe il prequel di z nation black summer sto finendo di vederlo in questi giorni però vi anticipo che black summer è letteralmente una merda come serie mentre z nation è decisamente meglio ma questo non vuol dire che z nation sia esente da difetti la serie è stata creata da carl schaeffer e craig angler che sono peraltro due nomi di punta dell'asylum i registi che si alternano nel dirigere tutti gli episodi di questa serie sono tanti non vi sto qui a dire tutti i nomi perché sono tantissimi e quindi ve li trovate magari qui sotto in descrizione alcuni dei registi diciamo più frequenti della serie non li ho messi tutti perché magari qualcuno ha diretto solo un episodio o due mentre altri ne hanno diretto tipo una decina ok metto i registi diciamo che appaiono più frequentemente nel cast abbiamo ovviamente tante persone così come tanti attori e attrici quindi vi faccio solo un piccolo preambolo della trama allora siamo in america e praticamente questo personaggio marfi che è un po diciamo uno dei protagonisti della serie è in carcere per un crimine in un laboratorio segreto del carcere si stanno sviluppando dei vaccini per un possibile contagio che ne sapete magari viene fuori un virus nuovo insomma si stanno sviluppando dei vaccini vengono scelte tre cavie per fare questi test uno di questi è marfi solo che gli altri due vengono uccisi perché scoppia all'improvviso una specie di rivolta dentro il carcere e la gente inizia a mangiarsi l'un l'altra quindi un'apocalisse zombie le altre due cavie vengono mangiucchiate vengono fatte fuori e marfi poco prima che la dottoressa riesca a scappare dal carcere inietta il vaccino sperimentale a marfi e proprio poco prima di morire viene mangiato dagli zombie viene morsicato la narrazione poi si sposta qualche tempo dopo marfi letteralmente ancora vivo ovviamente la pelle gli è un po cambiata e si scopre che lui è immune al virus in quanto con il vaccino gli si sono sviluppati degli anticorpi il virus si chiama h1z1 e l'incaricato di portare marfi in california per sintetizzare questo vaccino universale è il tenente emond solo che il tenente emond viene fatto fuori quasi subito alla fine marfi verrà passato di palla in frasca in varie squadre sostanzialmente la squadra principale è quella di garret e il tenente warren ci sono anche altri personaggi come per esempio doc poi abbiamo eddie e mac questo è il primo team diciamo che si forma poi la nuova squadra verrà composta appunto dalla sola warren perché garret viene fatto fuori dopo sei puntate poi abbiamo sempre eddie e mac poi abbiamo cassandra che è una ragazza che viene salvata da un covo di deficienti pervertiti stupratori e poi abbiamo altrettanti personaggi che per esempio diecimila che è un ragazzo che in realtà si chiama thomas e si chiama diecimila perché vuole raggiungere diecimila uccisioni in questo apocalisse assurdo poi conosceremo altrettanti personaggi che non ho il tempo di dirvi perché sono veramente tantissimi peraltro ogni stagione sembra progredire in maniera ironica perché la serie fa anche abbastanza ridere in alcuni momenti ci sono delle uccisioni completamente trash ci sono anche delle battute volutamente trash io e mia mamma ci siamo fatti delle grasse risate perché l'ho vista insieme a mia madre stasera a lei piacciono gli zombie abbiamo visto the walking dead fino alla nonna stagione poi ci siamo rotti il cazzo perché stava diventando inutile come serie a mio parere e anche al suo però con z nation ci siamo divertiti entrambi abbiamo fatto anche ci siamo fatti delle grasse risate in alcuni episodi peraltro diciamo che purtroppo per quattro stagioni le cose vanno molto bene nella quinta si stiamo ad un cambio che mi ha fatto girare letteralmente le palle per quattro stagioni il doppiaggio italiano è stato lo stesso cioè c'è stato lo stesso team di doppiaggio nel quinto hanno cambiato letteralmente tutte le voci e la cosa mi ha dato molto fastidio cioè ma come cazzo ti è venuto in mente di cambiare il doppiaggio se per quattro stagioni andava bene probabilmente per il quinto non avevano firmato il contratto boh non si sa comunque il cambio di voce mi ha fatto letteralmente girare le scatole peraltro la quinta stagione inserisce anche una specie di contesto politico si parla di elezioni altura pacifica nuova america cioè la quinta stagione mi è sembrata molto incasinata e addirittura anche molto lenta in alcuni punti poi abbiamo la questione dei biscottini z dei parlanti che sarebbero zombie che sono lì per trasformarsi ma se gli da il biscottino mantengono diciamo la lucidità del cervello sostanzialmente cioè rimangono tra vivette normali poi abbiamo addirittura per quanto riguarda gli zombie abbiamo un casino di zombie diversi non solo gli zombie normali abbiamo gli zombie radioattivi gli zombie iperattivi nel senso quelli che eccitati per esempio poi abbiamo quelli con per esempio delle armature con delle corazze per proteggersi poi abbiamo appunto oddio mochi si ricorda insomma zombie di tutti i tipi addirittura anche gli zombie infuocati abbiamo abbiamo addirittura gli zombie supercharger possiamo chiamarli così che sono quelli che caricano come dei tori poi abbiamo addirittura dei cacciatori che in realtà sono umani usciti di testa che non esitano a fare fuori qualcuno se si muove poi altre cose che posso dire sì che il divieto di censura il divieto di 18 anni è un qualcosa di osceno perché non è così straviolenta sta serie e qui introduco anche una cosa importante che mi ha fatto anche questo a girare un po le palle il livello di violenza della serie è tarato nella media però la cosa che mi ha fatto fastidio è che quando devono massacrare uno zombie si limitano a far vedere la persona che sta appunto massacrando lo zombie ma non mi fanno vedere diciamo il dopo cioè lo zombie per esempio con la testa tutta massacrata cioè come se si vergognassero di far vedere troppo gore e troppo sangue per fortuna un po di sangue si vede in alcune sequenze magari anche talvolta con effetti splatter però non mi non mi alza di più la questione non mi risolve la questione del non far vedere un po di gore cioè in una serie zombie il gore è quasi fondamentale anche in the walking dead lo facevamo vedere poi anche lì hanno perso hanno finito i soldi e gli effetti speciali sono andati a merda proprio sono andati a farsi fottere proprio in z nation purtroppo le cose si assomigliano perché cioè per una buona parte di serie il sangue si vede ma poi sembra che la serie abbia finito il budget quindi lo fanno vedere ma proprio in misura proprio piccola 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 e il gore dov'è lo fanno vedere nel 10 per cento delle scene d'azione porca troia non è possibile e poi soprattutto un'altra cosa che non ho tollerato è come dire la lentezza di alcuni episodi per esempio nella quinta stagione c'è un episodio intero dove george e doc stanno andando facendo un viaggio in macchina e intanto analizzano la costituzione con anche dei flashback e il resto della squadra sta andando in una fabbrica dove si pensa si producano questi famosi biscottini nella parte con warren e il resto della squadra abbiamo dell'azione fatta anche bene nella parte con george doc abbiamo una parte discorsiva lenta per altri flashback sono inutili va bene scoprire come è nata la costituzione però dopo un po ci ha scartavetrato i tre quarti di minchia cioè alcuni episodi veramente la tirano per le lunghe parlando di lunghezza gli episodi durano tutti più o meno uguali nel senso tra i 41 e 43 minuti a parte un caso eccezionale il primo episodio della terza stagione in realtà sono due episodi uniti perché inizialmente pensavano di fare un film poi l'hanno messo dentro come episodio standard però dura un'ora e venticinque e ve ne accorgerete che la prima parte è finita perché c'è uno stacco sul nero e poi inizia la seconda parte poi altro da aggiungere sì vabbè ci sono alcuni personaggi che poi vengono lasciati al loro destino per esempio actor che prima era questo fantomatico e scorpion poi si redime perché viene mangiato dagli zombie torna in vita sotto una nuova veste hector poi viene fatto fuori si risveglia sotto forma di zombie se così si può dire ma uno zombie un po diverso e poi niente non si sa più che fine abbia fatto quindi lasciano addirittura dei personaggi in sospeso vabbè poi ci sono delle episodi che purtroppo anche qui in questo caso per esempio suddividono la squadra per esempio c'è un episodio dove solamente doc il protagonista poi c'è un altro dove magari è tutta la squadra poi a un certo punto fanno un flashback di una cosa che è avvenuta prima di quell'evento c'è un casino anche qua diciamo linee spazio temporali che si confondono di tanto in tanto beh non avete visto niente perché in black summer le cose sono addirittura ben peggiori poi quando farò la recensione di black summer me ne sentirete dire di tutti i colori poi altro da aggiungere direi basta vi ho detto un po di cose e sì a peraltro marfi cambia anche colore questo questa è una cosa importante cambia colore durante tutta la serie prima diciamo sembra avere un po la pelle rocciosa poi inizia a diventare diciamo blu poi si mette in testa di fuggire dal gruppo perché vuole comandare una città con gli ibridi e poi da blu inizia a perdere colore inizia ad acquistare un pochettino la pelle diciamo rosa poi nella quarta stagione diventa normale se così si può dire poi alla fine della quarta viene mangiato da uno zombie e diventa di colore rosso peraltro per una buona prima parte della serie intera assume la capacità di comunicare telepaticamente con gli zombie poi addirittura li controlla anche in qualche punto quindi ha dei poteri particolari addirittura poi a un certo punto inizia a voler mangiare cervelli cosa che lui faceva schifo poi inizia ad avere fame e con i cervelli lui si sazia vabbè fanno fanno un po schifo certe scene dove lui mangia i cervelli però vabbè io sono uno che resiste mia mamma ha resistito però detto che schifo e lo so ok ragazzi vedo l'avevo detto più che abbastanza comunque una serie che si trova su netflix non è ovviamente con il login originale perché la serie della sci-fi nel senso sci-fi è il canale dove hanno trasmesso la serie in america la serie ovviamente della asylum però dopo che è stata dopo che è finita la trasmissione in america l'hanno caricata tutta su netflix ed è lì praticamente dalla fine delle trasmissioni quindi 2019 più o meno ed è ancora lì però se non volete che sparisca da un certo punto in avanti fareste prima a guardarla adesso perché sono cinque stagioni sono tanti episodi sono minimo dai 41 ai 43 minuti per episodi a parte quell'occasione lì del primo episodio della terza che dura un'ora e mezza più o meno quindi mi raccomando tagliatevi un po di tempo per vederla perché non dura poco bene ragazzi allora il voto per questa serie è di media tra il 7 e mezzo e l'8 e mezzo parto da un minimo di 7 e mezzo perché appunto ci sono alcune parti un po morte e appunto per la lentezza della quinta stagione in alcuni episodi soprattutto per il cambio di doppiaggio che non ho ancora compreso perché l'han fatto e 8 e mezzo saliamo a questo voto massimo perché comunque la violenza c'è in tutti gli episodi ci sono addirittura degli episodi girati con il formato tipo da cinema quindi con le barre nere orizzontali fantastico altri invece sono girati in full screen però devo dire che il livello di trashaggine e di diciamo di divertimento in generale comunque zombie che vengono uccisi insomma c'è veramente di tutto in questa serie quindi vi consiglio caldamente di andarvi da recuperare noi ci vediamo al prossimo video e grazie per essere rimasti in mia compagnia e noi ci vediamo alla prossima ciao